www.expeditions.com Ehi la ciurma, io sono la mazzatessa e rieccoci qui con Expeditions Row. E qui siamo. È il punto di vista del rubicone. Quindi ho dovuto iniziare subito a registrare la storia dell'Italia. Non importa quale maniera di meravigliosi ti senti, non c'è nulla come casa. Non c'è nulla, rivaleggia la bellezza di Roma. È bello di essere tornati, la bellezza di Roma è bello di essere tornati. È quello che separa noi dagli barbariani. Siamo guerrieri e combattiamo per preservare il nostro paese. Abbiamo combattuto così che altri non hanno bisogno. E' come se tutto quello per cui abbia combattuto fosse la mia sprovvivenza. Lontano per la tua famiglia e la tua casa. E' quello che ti rende un uomo virtuoso. Ok, comandante victorioso. Comandante. Finansi il tuo arrivo al Coyester. E ci permette di disbandare ora. E' una vista splendida, sono sicuro che te ne innamorerai. Ok, non c'è nessun posto come Roma nel mondo intero. E' quello che tutti dicono. Ora posso farlo vedere per me stesso. Ti farò sapere se mi concordo. Sei felice di essere a casa? Direi la prima. Sono contento se riuscirò a vedere la mia famiglia. Sono quello che rendono questa città la mia casa. Sì. Sì. Non ho un paese per rimanere, ovviamente. Potrei rimanere in tua casa, magari. Solo per ora. Sì. Sì. Puoi. La mia villa della mia famiglia disse che ho bisogno di sicurezza. Sicurità? Ho stato meglio di iniziare i problemi che di evitare. Ma... farò ciò che posso. Vedremo. Potremmo lo farò. Potremmo lo farò. Allora dovrei andare a trovare un altro paese per essere. Ma... Se voglio essere il tuo guarda, allora dovrei rimanere, certo? Potrei richiamare un sacco di attenzione a Roma. Pensi che sarà male? Potremmo potresti aiutare a comprare un buon romanzo. Allora dovrei rimanere, certo? E quindi? Ci potrebbe volere un po' di più di quello. Molte donne romane sembra come si possono combattere un toro. Purtroppo non avrei ricevuto gli avventi, credo. Perché voglio continuare a combattere quando non ho bisogno? La combattere è una necessità della vita, ma non un sport. Non ho venuto a Roma per continuare a combattere. No, infatti, c'è sta. Hey, Giulia. Oh, grazie. È solo quello che ogni ragazza spera di ascoltare. Non voglio tornare. Non so neanche dove andare. È la prima volta che sono tornata a casa. Però non so chi è... Romance... Mi voglio spoilerare a sta roba perché nel primo mi sono rovinato tutto. Dicendo, no, questa no, e poi alla fine era l'unica. Allora, vediamo un attimo. Giulia, ok, l'ho scoperto. Allora, vediamo un attimo. Uh... Ah... Non lo so. Non lo so. Non lo so. È che verosimilmente poi ce la bruciamo, questa opzione, se non... Non la usiamo ora. Eh... Vada. Lo so. Lo so. Ma... Non lo so. Non voglio dipendere su qualcuno altro. Ho visto come male che questo può riuscire. Ma lo so. Lo so. Però posso magari aiutarti a farti ritornare e ricocustare la tua casa? Non lo so. Ma lo so. Non lo so. Lo so. Che hai fatto con questa analisi incisiva? Allora, tu ne sei solo per te? Ho cercato solo di aiutare. Perché mi stai chiudendo fuori così? Ho cercato solo di aiutare. Perché mi stai chiudendo fuori così? Molto non voglio essere aiutato. La mia vita è in questo posto che mi stava cercando di aiutare. Eh... Che ne pensi dell'Asi? Che ne pensi dell'Asi? Eh, avremmo perso molti più regionali se fossimo andati per la Galea. Precisamente, solo non hai le esperienze troppo alti, ok? Non hai ancora un caso. Non sembri contento. E' un graditore prima, magari puoi tornare a combattere. Cosa farai se qualcuno ti aspetta? Cosa, ma non in Roma. Avevo una sorella. Però a volte mi questione la mia propria sanità. Si è davvero esistente? O l'ho proprio sogno? Aristocles insegna, che non lo sappiamo mai davvero. Viviamo chiamati dentro di una cava, guardando le scendie sulle. Noi non possono chiamare la bestia Tabat più. Non c'è più. Vedremo dove è la mia sorella. Come siete stati separati? Siete stati separati. Lei ha ottenuto un prezzo più alto da io, perché lei era migliore in ogni modo da io. Non so cosa si è diventata di lei. Eh, potremmo trovarla insieme dopo che ho ottenuto il mio lavoro al senato. Io considero il tuo offerto. Siamo aiutati a trovare la tua sorella, bestia. Siamo aiutati a trovare la sua esistenza o il che non c'è. Dove pensi della campagna? Tu sei un capabile, comandante. Mercia è la tua fortuna. Tuoi inimici esistono per quanto riguardano. Noi non pensi della situazione come ti ho parlato. che è la tua fortuna. Benvenuti, il mio figlio. Ancora sia bello essere ormai. Allora è bello essere tornato in mia casa una volta. La prima cosa è vero. Non mi ritrovo di non perdere la casa. Allora ho bisogno di un cambiamento di gioco e un viaggio al giovane. Però in modo che tu abbia tutto quello che vuoi, ok. Molto apprezzato. Era buono essere tornata in aczione, ma ora i miei vecchi bambini hanno bisogno di un po' resta. Ma per vedere tua madre, sono sicuro che è ansiosa di sapere che ci siamo arrivati. E' una buona idea, ma fallo con discrezione, fanno in sapere se sta bene. E' tutto bene in questa campagna, no? Se puoi dirvi di essere il tuo superiore nei matteri di combattimento, ti hai provato a dirci di più oltre la scuola di nessun dubbio. Grazie, Sineros, per l'autoconferma significa molto. Un nuovo gesto, ma grazie comunque. Ligate? Stai bene? Sempre ho questo sentito brutto quando sono tornato. Ho lasciato qualcosa di mio dietro là. Ehm... Non so... ma quello che mi manca è un bagno caldo. Ehm... 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 Allora, andiamo 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 No Allora, andiamo 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 A, andiamo Allora, e narre Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero Scusate su Cotter, è ancora un pochino da quello che ha fatto per la sua orgoglia Per un uomo come Cotter, una morte onorabile sarebbe preferibile per una malattia umiliata vicina Pompius Magnus non arriva oggi? C'è in Hispania, credo Oh, pensavo che questa è la mia scuola di venire la sua orgoglia Scusate, il saviore delle legioni, Lucullus Wanderkid Pensavo che tu dovresti essere qui Nonostante, è una partita, dopo tutto Quale sarebbe il motivo di queste riunioni se riferiamo dalla conversazione? Sono Aurelia Cotter, Marcus e Lucullus sono i miei ragazzi È meraviglioso che ti incontriamo, Legate Stavamo solo parlando di te, anche se Ovviamente stavamo Sembra che sei un po' scontoroso, Marcus Ho fatto qualcosa per attirare la tua ira Sembra di salvare la tua vita? Lucullus! Oh, per favore, lascia lui parlare, Aurelia Lascia tutti ascoltare la scuola di Marcus Aurelius Cotter L'unico che si è capturato e lasciato il suo figlio L'unico che si è salvato L'unico che si è salvato Per parlare chiaramente Penso che nulla di questo fosse stato il tuo errore Salvare la tua vita è stato un errore Resti assoluto, mio frate è grafico per questo, Legate Ehm... Ehm... Parare parlare del... Cioè... Praticamente del tempo... Un po'... Lì? Non lo so così Stavo cercando semplicemente di portare la conversazione con il video un pochettino più gioviale L'unico è abbastanza giovane recentemente, vero? Purtroppo la giovane conduce i mosquitosi Non tutti, sembra che... Va bene, vi lascio Esatto, la Katona E' tutto da Katona E' assolutamente necessario Io ho investito tutto sulle farmlandi La gente necessita il suo food Inoltre, lo fanno. Ma che buono è la maniera se è ottenuta da immagini illegittimi? Cosa pensi tu, Legate? Fortunatamente so che sei buono a trattare ambasciatori. Spolini di guerra. Non raccomandati e non taxati. Potrebbero essere usati per sviluppo per cuocere le persone di Roma? Una domanda semplice. Spolini di guerra. Non mi ricordo di fare una domanda semplice. Magari di guerra. Non so quanto cercate di legislaire, la situazione a mano farà le vostre aspettazioni. È exalta. Conso il senatore Marcos Porcius Cato e Marcos Tullius Cicero, che saranno avanti come vostro attore. Almeno ho spero di così. Infatti, le cose sono diventate diverso, mio amore. Ho deciso di rappresentare a Tiberius Vitellius Scaevola invece. Cosa? Ok. È immorale di difendere qualcosa a qualcuno quando sai che è colpevole. Sicuramente. Ti renderebbe così culo come loro. Cosa. Nel tempo che la tua difesa sia guidata da strumenti legali, dobbiamo credere al sistema per produrre il risultato giusto. Ligate, che guadagliate ti seguiste quando avevi deciso di decidere l'ultimo Triarchus? Perché lo lasciate vivere? Non c'era mai evidenza per renderlo colpevole. Non avrei mai preso la vita di un uomo se lo saluto uno sospetto. Nel senso che i nostri sentimenti spaventano sempre verso il passaggio moral. Mi chiedo... Esattamente come utilitario sei nel vostro pensamento? Ho sentito che avevi l'opportunità di abbrimentare un guardo scoperto per proteggere un spio. Ok. Nel senso di interrogare il mancato. Non tutti devono aderire ai vostri grandi standardi. E' così facile fare un giudizio così lontano dal campo di battaglia. E' così facile. E' così facile. E' così facile. Ok. Buongiorno. Ok. Buongiorno. Buongiorno. Un'altra domanda. Prima domanda. Prima ritorno. Tu e le vostre domande, Cato. Credo che se volessi, potessi entrare il pomerium completamente armato. Perchè non ti? Quella regola è vecchia come la stessa Roma. Disobbedirci sarebbe stato un disobbedire la nostra stessa società. Inoltre. Perchè non ti? Perchè non ti? Inoltre. Un'interessante, ragazzi. L'agrazione. E ora, con l'interessazione, farò andare. Voi. Buongiorno, Cato. Buongiorno. No, non dovrei preoccuparmi Ok Direi che interrompiamo qua Vi invito come al solito a lasciarvi un piacere Iscrivetevi al canale Ciao a tutti Buona giornata